Lei pensa che un miliardo di cittadini africani possano arrivare in Europa e essere accolti in Europa? Lei lo pensa veramente? Ma ci crede a quello che dice o le hanno passato un bigliettino? Io penso che Mara Nostrum e Triton siano operazioni razzistiche, finanziano gli scafisti e finanziano il terrorismo islamico. Io penso che l'unica via di uscita sia finanziare questi paesi, aiutare questi paesi a non dover scappare. Io a giugno andrò in Nigeria, cosa che dovrebbero fare i governanti buoni di sinistra, che invece se ne strafregano, perché io ritengo che ognuno debba crescere, vivere tranquillo nel paese dove è nato. A meno che qualcuno voglia sostituire popoli con altri popoli, ma questa è un'operazione di sostituzione etnica contro cui noi ci opporremo in ogni maniera.